Non basta leggere un articolo scientifico o non basta leggere un post di un medico o anche di un ricercatore su internet per avere una laurea e per essere in grado di gestire una situazione clinica. È chiaro che il Covid ci restituisce una popolazione arrabbiata perché probabilmente si è sentita meno seguita e soprattutto una popolazione che si sente in grado di curarsi da sola, cioè fondamentalmente lo ricorderete ancora, i striscioni della gente per strada, io sono il medico di me stesso. Bene, dobbiamo cercare secondo me di rimettere a posto tutti i vari fattori. Dobbiamo tornare ad avere un rapporto medico-paziente come ci hanno insegnato i nostri maestri, tornare ad ascoltare i pazienti, tornare a visitarli. Diciamo che i pazienti hanno avuto la loro responsabilità, forse anche noi come classe medica abbiamo avuto la nostra. È chiaro che è inaccettabile quello che sta succedendo nei confronti di molti colleghi, sia medici ma devo dire anche infermieri, operatori sanitari, militi che vengono letteralmente presi a calcio, a sberlo, a sputi o a brutte parole perché c'è un problema organizzativo. È evidente che noi non siamo i responsabili di problemi organizzativi. Però tornando sul tema dell'antibiotico-terapia, il paziente deve sapere che se il medico decide di non dargli un antibiotico e lo fa per il suo bene e quindi è sbagliato quello in qualche modo di mettere in croce il medico, il farmacista per farsi dare l'antibiotico perché io l'ho letto su internet. Con questo credo che sia un qualche cosa che andrebbe assolutamente evitato. C'è stato in questi anni, soprattutto negli ultimi 20-25 anni, un incremento spaventoso dell'utilizzo di antibiotici, soprattutto in alcuni paesi. Tutta l'area, diciamo, asiatica, medio orientale è quella oggi più colpita dalla resistenza agli antibiotici stessi e certamente il Covid è stato un moltiplicatore di resistenze perché durante il periodo, diciamo, degli ultimi 4 anni si sono utilizzati spesso anche quando non necessari molti antibiotici. Facciamo un esempio. Certamente l'azitromicina che è stata molto utilizzata anche nel nostro paese e già la situazione quando il Covid è arrivato non era certamente delle migliori. Una delle cose che viene detta spesso è ma li prescrivono i medici. Non è vero. Certamente i medici hanno la loro colpa, la loro responsabilità, ma sappiamo bene come quando viene prescritta una cura di antibiotici, magari vengono prescritte due scatole di antibiotici, rimane sempre qualche pastiglia nel cassetto, nell'armadietto dei farmaci e una delle tentazioni che i cittadini hanno è quella che appena arriva la febbre perché si prende l'antibiotico scambiandolo per un antipiretico. Ecco, l'antibiotico è un farmaco con attività antibatterica che non funziona in moltissime altre situazioni in cui c'è la febbre, quindi cerchiamo di usarlo con raziocinio solo quando serve anche per permettere di conservare l'efficacia di questi farmaci ancora molto a lungo.